Molte le iniziative del Consiglio regionale per celebrare il giorno del ricordo, istituito il 10 febbraio di ogni anno, per commemorare le vittime dei massacri delle FOIB e l'esodo Giuliano Dalmata. Tra queste la proiezione al cinema massimo di Torino di una pellicola di 60 anni fa di Mario Soldati, La mano dello straniero. Sulla social tv è visibile anche il filmato Il sorriso della patria, l'esodo Giuliano Dalmata nei cinegiornali del tempo.